Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini promette di azzerare la legge Fornero. Ma quanto costa nel 2023 cancellare la legge Fornero e fare una riforma che vuole Salvini? Quanto costa quella quota 41? Perché ovviamente ha un costo. Costa 4 miliardi di euro. Se lo pensiamo in lire sono come 8 mila miliardi di lire. Noccioline, 4 miliardi di euro. Sono tanti, sono pochi. Tenete presente che il reddito di cittadinanza costa circa 9 miliardi all'anno. La riforma delle pensioni costerebbe più o meno la metà del reddito di cittadinanza. Tutti vogliono mettere mano a sto reddito. Con i soldi del reddito facciamo questo, abbassiamo le tasse, costruiamo un missile per andare sulla luna. Ecco, con i soldi del reddito vogliono fare tutto, qualsiasi cosa. Ma il reddito di cittadinanza verrà cancellato e verrà rifatto. Verrà rifatta un'altra cosa che costerà circa 4-5 miliardi. Perché i soldi verranno dati a chi ha più di 60 anni, a chi non può lavorare, eccetera, eccetera. Quindi non è che quei soldi, 8-9 miliardi, tornano liberi. La metà, circa 4 miliardi. Va bene. Allora bisognerà anche scegliere che cosa fare. Che si fa? Si tagliano le bollette della luce e del gas? O si fa la riforma delle pensioni? O si alza un pochino le pensioni minime? Perché come Berlusconi dice, alziamo le pensioni minime, ci vogliono 30 miliardi. Altro che gli 8-9 del reddito di cittadinanza. Ci vogliono 3 anni e mezzo di reddito di cittadinanza per un anno solo, alzare le pensioni. E poi la famosa flat tax, costo della flat tax originale, quella flat tax tassa piatta, vuol dire tutti pagano il 15%, tutti. Quel tutti vuol dire 80 miliardi. Di quegli 80 miliardi non ce n'è neanche l'ombra. Allora Salvini aveva corretto, alla flat tax da 70 mila euro in su di guadagno si paga una liquota molto più alta, 40-42. Fino a 70 mila si fa, non so, da 25 a 70, 15%. Sotto 15 mila non si pagano tasse, così c'è la proporzionalità. Ma quella flat tax lì, in versione nuova, che non è una flat tax ma è una rimodulazione delle aliquote, costa 13 miliardi. Quindi ce ne sono 4 del reddito di cittadinanza, ci vogliamo fare quota 41 che costa 4, la finta flat tax che costa 13 e siamo a 17 miliardi. E poi vogliamo alzare le pensioni minime a 1000 euro e altri 30 miliardi, andiamo a 47-48, arrotondiamo a 50 miliardi. Ma dove sono sti soldi? Non ci sono. Non ci sono. Ecco. Quindi, lo Stato non ha soldi. C'è solo sto reddito che andranno a modificare, rimangono 4 miliardi, con quei 4 miliardi vogliono farci tutto, il taglio delle bollette, i rigassificatori, ci facciamo magari anche le centrali nucleari, no? Ci facciamo le centrali nucleari con quei 4 miliardi. Ecco. Insomma, la legge Fornero, che è già legge dello Stato, cancellarla per fare quota 41 costa 4 miliardi di euro. Ma Salvini dice, quanto costa? Eh, costa 4 miliardi. Sono tanti, sì, ma meno della metà di quello che costa il reddito di cittadinanza. Allora preferisco dimezzare il reddito e mandare qualcuno in pensione dopo 41 anni di fabbrica. Va bene. Se il governo che verrà, se sarà un governo Meloni, deciderà che la priorità è la pensione, la riforma delle pensioni, e dire noi con i soldi ci facciamo solo la riforma dei pensioni, è stop. Tutto il resto salta, perché bisognerà scegliere. O si aiutano gli stipendi, o si aiutano le imprese, o si tagliano le bollette, o si alzano le pensioni minime, o si fa la riforma delle pensioni. Tutto il libro dei sogni non si può fare. E se qualcuno ci vuole credere, siete liberissimi di crederci, poi dopo il 25 settembre mi dite, il 26 di settembre se hanno fatto tutto, se hanno fatto tutti i compiti e le promesse elettorali. Oggi ho sentito, sono rimasto ancora un po' perplesso, se mi permettete il termine. Sapete che nel PNRR c'è la piantumazione di circa 6 milioni e mezzo di alberi. Da qui al 2024 ce n'è da piantare altri 3 milioni e mezzo. Oggi Berlusconi ha continuato a dire, ha detto ma non ci posso credere, ha continuato a dire che lui nel programma vuole piantare un milione di alberi. Ma come? Se nel PNRR ce ne sono 2 milioni, 3 milioni in più, lui ne vuole piantare di meno. Vi ricordate che abbiamo parlato settimana scorsa di questa proposta assurda buttata lì a caso? Dice che facciamo? Ah, digli che piantiamo un milione di alberi. E una grillina che lavora al Ministero dice, scusi, dite a Berlusconi che perché vuole piantare meno alberi di quelli che ci sono programmati nel PNRR. Io pensavo che qualcuno avesse detto a Berlusconi, guardi scusi Cavaliere, lei ha proposto un milione di alberi, guardi che ce ne sono previsti di più. Quindi figura, una figura terribile, terribile, una cosa... Questo vi fa capire questi politici come fanno politica, cioè buttano lì le cose a caso senza neanche essersi informati in Italia. Se lui si fosse informato, gli avrebbero detto, guarda che nel PNRR ce ne sono milioni di alberi, cosa serve proporre un milione? Ci fai solo una figuraccia. Si vede che nessuno gliel'ha detto, nessuno gliel'ha detto dopo che la notizia è uscita e oggi ho sentito ancora proporre un milione di alberi. O forse intendeva un milione di alberi di Natale, ma forse era quello. Forse non erano alberi così, ma forse era un milione di alberi, un albero di Natale per tutti. Forse è quello, chi lo sa. Va bene. Pertanto Salvini ha tutti i suoi obiettivi, abbiamo fatto il conto, vi ho fatto il conto ieri che le proposte di Lega e Forza Italia sono circa 200 miliardi di euro. C'è un video, abbiamo fatto il conto di quanto costa ogni cosa che vogliono fare, 200 miliardi di euro. Però nel programma del centrodestra questi costi non ci sono. Se andate a vedere il programma di Forza Italia, il programma della Lega, fate la somma e viene fuori quella cifra. Se guardate il programma del centrodestra non ci sono numeri, quindi non si può fare una quantificazione della spesa, ma è molto vago. Alzeremo le pensioni, se si potrà, faremo la flat tax, se si potrà. Insomma, faremo se si potrà. Bene, arrivederci a tutti e grazie, ci vediamo tra una ventina di minuti.